Ebole, vediamo al prossimo passaggio. Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati al Palasport di Casamora in questo sabato 7 novembre 2015. In campo il Maremma Promotion Castiglione ospita il Crash Ebole, formazione campana per la terza giornata del campionato di Serie A2. Seconda gara consecutiva tra le mura mica per la formazione maremmana in tenuta bianco-celeste a righe verticali per un match sulla carta davvero abbordabile, però nel hockey mai dire mai perché effettivamente ne possono succedere di tutti i colori. Questi sono i saluti grazie alle riprese di Ivan Necomandi con la maglia rosso-blu a parte dell'Eboli. La formazione davvero giovanissima condotta però da Berniero Gallotta, allenatore di lunga data e lui insomma l'anima dell'Eboli da tante stagioni tra Salerno e Eboli. E adesso andiamo subito ad inquadrare la formazione maremmana, così annunciamo i giocatori in pista con il numero 1 il portiere Lorenzo Paoli, che questa sera però inizierà dalla panchina con il numero 2, Luca Goti, il veterano con il numero 3, scusate, con il numero 4 Riccardo Salvadori, con il numero 5 Francesco Borracelli, con il numero 7 Jonathan Becoli, con il numero 9 Marco Tisato, con il numero 11 Michele Nerozzi, con il numero 32 Gigi Brunelli e con il numero 99 Alessandro Franchi. In porta, come detto, questa sera parte il titolare Pari dei Sassetti, per lui è l'esordio assoluto nel campionato di Serie A2. Allenatore Michele Achilli, che questa sera non si è praticamente schierato, è rimasto dunque in panchina a dirigere i suoi giocatori. Dall'altra parte l'Eboli con il numero 10, il portiere titolare è Carlo Di Ceto, 14 anni e mezzo hanno tenuto a sottolineare i dirigenti appunto della formazione ebolitana. Con il numero 4 Alessandra Gallotta, c'è anche una signorina di 18 anni, che è in sostanza la sorella di Davide Gallotta, che è il numero 8, ma andiamo con ordine. Con il numero 7 Mariano Casaburi, con il numero 8 appunto Davide Gallotta, il fratello di Alessandra. Con il numero 9 un po' il giocatore di riferimento Luigi Marcella, l'11 Antonio Chiello, il 16 Alessandro Fornataro, poi Marcello Corsaro il 21, Vito Gallotta l'85 e Valerio Lamberti, con il numero 20. Come detto Berniero Gallotta è l'allenatore, l'arbitro del match Marco Giombetti di Modena, l'ausiliario Alessio Casini di Follonica. E' iniziato dunque il match tra Marema Promotion, Castiglione e Crash Eboli, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A2. Avanza la formazione ospite, con Marcella lo scarico a cercare Vito Gallotta, formazione come detto giovanissima, ci sono davvero dei sedicenni, dei diciassettenni, dei ventenni, Vito Gallotta è quello forse più anziano, 28 anni, ma poi il 31 di Mariano Casaburi, e poi anche Luigi Marcella, intanto va al tiro, Jonathan Beccoli, la palla sicuramente larga, appunto di Luigi Marcella, anche lui 27 anni, quindi una formazione di ricostruzione, quella approntata da Berniero Gallotta, che ha iniziato un po' male, a dire la verità, due sconfitte in fila, con la S. Viareggio e poi con il Sandrigo, ma due match anche sulla carta un po' proibitivi, tutto sommato. Intanto Luigi Marcella ha sistemato la pallina, avvicina a sé, con il numero 8 Davide Gallotta, i due andranno per la conclusione, palla nell'angolo, alla fine Franchi va incontro Piadet, prova subito al tiro, la palla larga, si salva la porta dell'Eboli, è passato un minuto e mezzo da inizio del match, siamo dunque sempre 0-0 a Casamora. Intanto in difesa lotta Gigi Brunelli, ma probabilmente poi il tocco con il pattino, quindi punizione in favore dell'Eboli, riparte proprio con Casavuri, Mariano Casavuri, si affida a Marcella, Castiglione prova un pressing molto alto, sulla linea mediana, poi ancora Marcella, il tiro, spalla la porta, bella giocata quella di Luigi Marcella, ha provato un tocco davvero improvviso, spalla la porta, ma poi è stato bravissimo, però a pari dei sassetti, subito entrato in Kliman, partita. Ricordo pari dei sassetti, arriva dalla Siena, sempre giocato praticamente in Serie B, intanto va al tiro, Beccoli la parata, poi ancora Beccoli, in qualche modo si salva l'Eboli, bravissimo anche Carlo Di Ceto, come detto giovanissimo, nemmeno 15enne, subito mandato nella Fossa dei Leoni, da Berniero Gallotta, deve farsi esperienza, ha detto l'allenatore Campano. intanto la pallina è uscita, fuori dalla pista, messa in gioco sarà per l'Eboli, due minuti e mezzo, abbiamo già visto qualche bel tiro, per entrambe le squadre, sbaglia però l'appoggio, allora recupera Francesco Borraccellini, Cassini tra l'altro è rientrato, dopo la lunga scalifica di tre giornate, Michele Nerozzi, intanto Brunelli, scarica per Franchi, Franchi va al tiro, Palena rimane lì, poi anche Beccoli, ha provato la conclusione. può ripartire allora l'Eboli, a fidanzia Marcella, è lui un po' l'ispiratore, di tutte le manovre, della Crash, tanto il fallo commesso, proprio dal giocatore, ospite, Giombetti, richiama, deve lasciare lì la pallina, allora riparte, Francesco Borraccelli, per linee centrali, scarico per Gigi Brunelli, ancora Franchi, Cassini manovra con velocità, ancora Brunelli, Franchi, ancora Gigi Brunelli da destra, aspetta l'arrivo di qualche compagno, va vicino Beccoli, sono due, dietro la porta, ma è tutta chiusa la difesa dell'Eboli, poi Borraccelli va al tiro, Casa Aburi ci ha messo la stecca, può ripartire, allora la formazione campana, fidandosi a Luigi Marcella, prova anche un tiro, ma va di fronte Franchi, che lo chiude, poi recupera, tenta di andarsene Franchi, ma Marcella bravissimo, poi contro il piede, Casaburi, il tiro, la parata di Sassetti, bravissimo, pari di Sassetti, si è trovata una pallina d'oro, Casaburi, Mariano Casaburi, arrivato appunto questa settimana, alla corte dell'Eboli, ma ha trovato sulla sua strada, Davide Sassetti, che si è subito messo in mostra, è rimasto solo, praticamente davanti alla porta, il rimbalzo, ha favorito Luigi Marcella, l'assist, tanto il tiro di Franchi, la palla larga, ma recupera Beccoli, Capocanoniere del Castiglione, con tre gol, ancora Fra, Borracelli al tiro, la palla alta di un soffio, recupera l'Eboli, buon ritmo, a dire la verità, in questo avvio di match, quasi cinque minuti sul cronometro, Marcella, Marcella, prova il tiro, Sassetti, bravissimo, ma che occasione ancora, per l'Eboli, Castiglione, disattento, in difesa, in avanti, a cercare Davide Gallotta, che lui, diciassettenne, Marcella, Gallotta, Baltino Gallotta, gollo, il vantaggio, dell'Eboli, cinque minuti e dieci secondi, gran diagonale, e Davide Gallotta, mette la pallina in fondo al sacco, il vantaggio ospite, davvero anche a sorpresa, a dire la verità, Mattante, aveva già sciupato, un paio di occasioni, in precedenza, la formazione di Berniero Gallotta, poi alla fine Davide Gallotta, invece ha centrato, l'angolo più lontano, Eboli dunque vantaggio, vediamo la reazione maremmana, Franchi va al tiro, palla respinta, che esce dalla pista, bisogna attendere però il fischio del direttore di gara, riuscita a sé Brunelli, passaggio, cercare Borracelli, si libera, ha spazio il tiro, ma lì c'è Carlo Di Ceto, che va subito alla respinta, ancora Brunelli tenta di andare in slalom, viene chiuso, finisce a terra, si conquista una punizione Gigi Brunelli, quasi all'altezza del tiro libero, proprio Vecoli e Franchi, vanno a concertare la battuta, poi se ne va Vecoli, la barriera a tre, da parte dell'Eboli, rimasto Borracelli, e Franchi, va al tiro Franchi, la palla filtra ma allarga, si riparte allora con Borracelli, Franchi, ancora Brunelli, Nebole lì, si è chiuso davanti alla propria area di rigore, poi quando la pallina si avvicina, vanno in pressing, i giocatori campani, ancora Franchi, Borracelli, Gigi Brunelli, c'è una buona circolazione, ma poi bisogna trovare anche lo spazio per il tiro, Vecoli va alla conclusione, la palla deviata, recupera Brunelli, Borracelli, Vecoli, Franchi, sei minuti e mezzo sul cronometro, vantaggio dunque della Crash, che inaspettatamente a dire la verità si è portata avanti 1-0, intanto il tiro di Franchi, la parrata di Ceto, poi ancora l'assist di Vecoli per Franchi, chiuso, si riparte a centropista Borracelli, nuova conclusione, la pallina viene stoppata da Luigi Marcella, che tenta di andarsene, blocca tutto, però Brunelli, allora contropiede, va Brunelli in area, non ha spazio, poi esce dietro la porta, il tiro, ma lì c'è la parata di Ceto, che blocca tutto, può ripartire l'Eboli, sbaglia però il lancio Luigi Marcella, adesso Castiglione tenta di dare continuità all'azione d'attacco, sotto 1-0, Vecoli, Franchi, Franchi al tiro, gran botta, la palla larga, finisce a terra, Franchi rigore, sembrato netto, l'intervento su Alessandro Franchi, Giombetti, non ha avuto dubbi, 7-27 sul cronometro, rigore su Franchi, al tiro proprio l'attaccante mare in mano, mentre è entrato, sono entrati Salvadori e Nerozzi nel Castiglione, ma insomma Franchi va a sfidare il giovane Carlo Di Ceto sul tiro dal dischetto, tutto pronto, appena Giombetti alzerà il braccio, potrà scoccare il tiro Franchi, il tiro gollo, il pareggio di Alessandro Franchi, 7-28 sul cronometro, 1-1, resta la gioia, la formazione mare in mano, Alessandro Franchi non ha perdonato Carlo Di Ceto, portiere giovanissimo, insomma dal dischetto poteva fare ben un poco, su questa conclusione alta vicino al palo, stabilita dunque la parità con il gol di Franchi, intanto Sassetti va alla parata, va esploso il tiro, il numero 85 Vito Gallotta, poi sbaglia ancora il Castiglione, sbaglia però anche il Lebo, dicevo appunto di Franchi, terzo gol stagionale anche per lui, il Prati ha segnato in tutte le partite, ancora Franchi, il tiro di Di Ceto, poi Nerozzi subito, è entrato in pista il capitano mare in mano, ma anche al tiro, la respinta di difensori dell'Eboli, nella parte opposta a casa Burri, conclusione abbastanza debole, adesso si scatena Borracelli, per Nerozzi, la presenza aveva la porta sguarnita, ma la conclusione esce di un soffio, allora Salvadori, andata a cercare Franchi, ma davvero a gran velocità, la formazione maremmana, che ha trovato la parità, dunque al settimo, un paio di minuti e mezzo sotto, poi il gol sul rigore, proprio di Franchi, va al tiro poi Borracelli, la palla respinta, può ripartire Luigi Marcella, Marcella in area, Sassetti bravissimo, che parata per Pari de Sassetti, subito in grande spolvero, poi la pallina finisce sulla stecca di Salvadori, può ripartire Franchi, Franchi conclusione, ma non inquadra la porta, poi Casaburi, sbaglia però, disimpegna allora Nerozzi, che viene colpito, da Gallotta, finisce giù, ci sono un po' le proteste, gli attori maremmani, si scalda subito il match, mi ha segnato il fallo, punizione dunque per il Castiglione, mentre è stato chiamato un time out, dalla panchina maremmana, ancora Franchi va a discutere, con l'arbitro Marco Giombetti, insomma, dopo nove minuti poco più, risultato di 1 a 1, grazie ai gol, con un gran diagonale di Davide Gallotta, davvero un bel gol, quello realizzato da Leboli, per Davide Gallotta, secondo gol in campionato, poi il pareggio sul tiro dal dischetto, messo dentro, da Franchi, mentre in pista è entrato anche, Marco Tisato, e Luca Goti, fa ruotare praticamente tutta la panchina, Michele Achilli, questa invece, la squadra del Crash Eboli, con Berniero Gallotta, che va alle spiegazioni, ha detto bisogna usare solamente la testa, indicava proprio, ai suoi giocatori, allora l'arbitro, riporta la pallina all'incrocio delle righe, per la battuta della punizione, con Nerozzi, vicino a sé, Tisato, sbaglia l'appoggio Tisato, ma recupera, cercare Goti, è entrato ormai in pianta stabile anche lui, tra le file del Maremma Promotion, Salvadori, Tisato, andata a cercare Goti, ancora Salvadori, sempre Castiglione, però, la linea mediana della pista, difficile penetrare in questo momento, verso la porta, ci prova Tisato, gran tiro da lunga distanza, la parata, di Carlo Di Ceto, può ripartire allora Leboli, affidandosi a Luigi Marcella, pallina per Casaburi, poi l'appoggio per l'autore del gol, Davide Gallotta, anzi scusate, per Vito Gallotta, Davide al numero 8, prova Luigi Marcella al tiro, i gambali di Nerozzi, poi sbaglia l'appoggio, e allora dalla parte opposta, scatta Marco Tisato, che recupera la pallina, rimane però in possesso, allora si affida a Goti, cercare ancora Tisato, ora per Riccardo Salvadori, alla caccia, il suo primo gol in campionato, non ancora segnato Riccardo Salvadori, va Goti, chiuso, rimane in possesso, inviato a cercare Tisato, le finte, ancora il tiro di Tisato, gol, un raso terra imprendibile, per Marco Tisato, passa in vantaggio a Castiglione, 2 a 1, 10 minuti e 57, Tisato, 2 a 1, su raso terra, davvero un bel gol, quello di Marco Tisato, ma probabilmente, anche un minimo di indecisione, del portiere, del giovane portiere, Carlo Di Ceto, che probabilmente, era un po' coperto, ma visto partire il tiro, fa la senzaccata, capovolge dunque, il risultato, il Castiglione, mentre va giù, proprio l'autore del gol, del 2 a 1, Goti, porta avanti la pallina, si affidi da Salvadori, avanza Riccardo Salvatore, ancora per Tisato, diventato, da poche settimane, praticamente un mese, papà, quindi anche lui festeggia, una lieta novella, così come anche Michele Nerozzi, infatti due nuove arrivi, praticamente in casa maremmana, allietare questo avvio di stagione, sempre una bella cosa, tra l'altro, Nerozzi va anche al tiro, la parata di Di Ceto, tra l'altro, anche mister, Michele Achille, aspetta il secondo genito, quindi, insomma, Castiglione, il futuro, in parte assicurato, parte gli scherzi, insomma, giovani ragazzi, atleti, che si danno da fare, poi ancora pro Gallotta, interviene, Luca Goti, che aveva perso la pallina, riesce in qualche modo, a stoppare l'attaccante, Campano, poi Casaburi, sbaglia però l'appoggio, recupera, Tisato, adesso sulla sinistra per Goti, abbiamo sobrato metà, nel corso del primo tempo, 2-1, vantaggio mano in mano, ma una partita lunghissima, Lebole lì, che attende, trovato addirittura il gol del vantaggio, poi la rimonta, Castiglione, tanto Nerozzi, lotta, su Marcella, gli va a dare una mano Goti, ancora Tisato, Salvadori, per linee centrali, poi Goti in velocità, non c'è nessuno però in area da servire, allora Goti, scambia con Salvadori, poi indietro per Nerozzi, ancora Salvadori, prova il tiro Salvadori, la respinta di Carlo Di Ceto, il tiro accompagnato era centrale, ancora Salvadori, andata a cercare Tisato, Goti, Salvadori, andata a partire, Riccardo Salvadori, conclusione, c'entra in pieno il portiere, che è rimasto lì, fermo, Di Ceto, in qualche modo è riuscito a respingere, nella parte opposta, poi Goti, va duro su Vito Gallotta, e si becca il cartellino blu, sembra anche un intervento abbastanza esagerato, ma insomma, blu a Goti, 13, e 32, al tiro va Marcella, lui insomma, il bomber, la formazione bolitana, pare dei sassetti, sistema l'attrezzatura, deve stare fermo, nel centro della porta, vediamo cosa deciderà Luigi Marcella, se un tiro o avanzerà, tutto pronto, può partire Marcella, la finta, lanza e schiaccia, ferma tutto, sassetti ma c'è il gol, anzi no, è un ingaggio a due, non c'è gol, scusate, lo stava ingannato dall'arbitro, che aveva alzato la mano, ma poi ha alzato la mano a due, para dunque sassetti, poi ha schiacciato, sostanzialmente la pallina, prima che la stessa entrasse in porta, dunque c'è un ingaggio, si salva il Castiglione, adesso però, deve giocare due minuti in infernità, ma anzi no, perché da dietro, il numero 8, Davide Gallotta, si becca a lui adesso, il blu, in pochi secondi, ristabilita dunque la parità, 13 e 39, sono passati solo 7 secondi, quindi dal tiro della punizione, le 7 metri e 40, blu a Davide Gallotta, questo porta all'espulsione del giocatore, Campano, ma soprattutto al tiro, su punizione di prima di Salvadori, quindi 2 a 1, vantaggio mare in mano, ma Salvadori, ha la possibilità, di allungare, per la formazione mare in mano, vedremo cosa succede, va Riccardo Salvadori, gran tiro, la palla larga, poi Salvadori ancora, poi gol di Nerozzi, l'assist di Riccardo Salvadori, arriva Michele Nerozzi, che bagna il suo sordo in campionato, con un gol, 3 a 1, quindi 13 e 54, Nerozzi, fa 3 a 1, assist di Salvadori, che aveva sbagliato il tiro libro, e dunque, riuscita a recuperare la pallina, poi ha servito Nerozzi, che arrivava da, praticamente, dalla parte opposta della pista, adesso una particolarità, segnato il gol, Levoli può recuperare, praticamente il giocatore di movimento, perché, la regola è questa, in pratica Cassioni gioca ancora, con 3 uomini, mentre l'Eboli, con Davide Gallotta, però in panca puniti, ha potuto rimandare in pista, il quarto componente, tanto Tisato blocca tutto, può ripartire, la formazione maremmana, ancora Tisato, va al tiro, in pista entrato, con il numero 21, Marcello Corzaro, anche lui giovanissimo, 16 anni, Nerozzi, rimane in possesso palla, poi tenta di liberarsi, proprio di Corzaro, sbaglia l'appoggio, su Salvadori, la pallina va addirittura, nell'angolo, può ripartire allora, Luigi Marcella, con l'Eboli, che tenta subito, di accorciare le distanze, tra l'Eboli ha subito un gol, però in parità numerica, in quel momento, 3 contro 3, tanto al tiro, Casaburi, un bel diagonale, ma decisamente largo, ancora Marcella, bloccato, poi finisce giù, si lamenta di un tocco, Abito Giombetti, però fa proseguire, Casaburi, Vito Gallotta, con il numero 85, ancora per Marcella, poi Casaburi, ma non inquadra lo specchio, è una buona opportunità questa, ancora il tiro da lunga distanza, ferma tutto Salvadori, allora contro Piedemare in mano, ma Salvadori vuole rimanere in possesso palla, sbaglia l'appoggio, si deve impegnare, Tisato, entro 5 secondi, la pallina vettore della parte opposta, non ce la fa, e dunque possesso per l'Eboli, ma sono trascorsi due minuti del power play dell'Eboli, e dunque è rientrato in pista Luigi Brunelli, adesso ristabilita la parità, mancano 9 minuti e 13 secondi, alla fine del primo tempo, 3 a 1 vantaggio mare in mano, tanto ha scontato la penalità anche Gallotta, Davide Gallotta, quindi potrà rientrare anche lui, se Berniero Gallotta lo vorrà in pista, recupera la pallina Luigi Brunelli, tenta di andarsene, va subito al tiro, gran botta alla lunga distanza, ma larga, allora dalla parte opposta, il lancio è lunghissimo, da parte di Vito Gallotta, per Casaburi, in qualche modo però recupera, ancora Vito Gallotta, male finte, prova anche il tiro, la palla larga, recupera Marcella, ancora Marcella, gran botta, anche questa fuori di un soffio, Lebolino molla di un centimetro in questo primo tempo, recupera la pallina, con il numero 21, Marcello Corzaro, ancora Luigi Marcella, dalla parte opposta, ma la conclusione, Vito Gallotta, ma la palla decisamente alta, dunque, è messa in gioco per il Castiglione, mentre è rientrato in pista, Jonathan Becquoli, mentre nel Lebol, è rientrato anche Davide Gallotta, Becquoli subito, a disposizione dei compagni, Salvadori, Tisato, ora Brunelli, cerca Becquoli, Salvadori, non riesce a concludere, ma recupera però la pallina, ancora Becquoli, Brunelli, Tisato, ancora Tisato la conclusione, la palla respinta, Tisato però sempre in area, poi Becquoli si impegna su Corzaro, due lottano alla balaustra, poi arriva anche Casaburi, il fallo viene fiscato però, il giocatore castiglionese, Davide Gallotta, manovra Luigi Marcella, sono loro due, portare avanti la pallina, Marcella in area, il tiro, ma Davide Sassetti è lì, blocca tutto, poi allontana Salvadori, Brunelli va in contropiede, le finte, tenta di entrare in area, finisce giù, l'arbitro fa proseguire, ma qui è stato agganciato nettamente, poi Becquoli come un leone, dietro la porta, Salvadori, gran tiro, la palla però è centrale, la respinta di Viceto, sempre Castiglione a manovrare, 6 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, 3 a 1 il vantaggio, ma partita particolare, di la verità, perché tante occasioni anche per l'Eboli, Castiglione ha sfruttato un po' i tiri da fermo, poi rilancio dalla parte opposta, Sassetti in qualche modo allontana, sempre però Crash a manovrare, Casaburi, cercare Davide Gallotta, sbaglia però l'appoggio, recupera Tisato, porta un po' a spasso la pallina, poi la offre a Gigi Brunelli, Becquoli, il giocatore Biareggino, Salvadori, gran tiro, ma lì c'era Davide, anzi, c'era con il numero 21, Marcello Corzaro, che recupera la sfera, la offre a Casaburi, in avanti per Gallotta, che lotta con Salvadori, ancora Gallotta, prova in alza e schiaccia, la palla però sull'esterno della rete, Castiglione che può ripartire, Salvadori, cercare Becoli, Becoli in aria, le finte, chiuso da due avversari, alla fine gli tolgono la pallina, Luigi Marcella, può impostare il contropiede, poi Becoli aggancia da dietro, Marcella, finisce a terra, combattere la punizione, proprio Corzaro, anzi, si allontana, allora Marcella e Casaburi, riparte però l'azione, cercare Davide Gallotta, non alza e schiaccia, tentato, ma recupera Brunelli, che tenta di andarsene, Brunelli, l'assist, poi finisce a terra, ancora Gigi Brunelli, questo sembrava un altro fallo netto, per il giocatore Maremmano, Becoli intanto, recupera la pallina, tenta di andarsene, su Corzaro, vuole pensarci un po' su, con l'esperienza, Jonathan Becoli, tanto cambia, ripetizione in casa Maremmana, Becoli, dietro per Borracelli, servito subito anche, Franchi, che insieme a Brunelli, compongono il quintetto, in questo momento, Borracelli, mette in mezzo, la palla filtra, si lotta, il fallo di Corzaro, è il quinto fallo di squadra, dell'Eboli, solo tre, quelli commessi dal Castiglione, una partita, sostanzialmente, senza, grande animosità, se non in alcuni tratti, nulla di particolare, per un match di hockey, Becoli, Franchi, in area, tutti i giocatori, Brunelli, Borracelli, adesso, partano, da centropista, gli uomini, in maglia, bianco e celeste, Franchi, cercare Becoli, poi per Franchi, grande azione, ma la palla, esce di un soffio, Becoli, però si impegna, recupera in area Becoli, il tiro, la parata di Ceto, poi il tiro di Borracelli, la palla deviata, Castiglione però, a dire la verità, quando accelera, fa davvero paura, anche in questo caso, Franchi, era un passo della porta, l'assist di Becoli, che poi non è riuscito, ad inquadrare lo specchio, poi ferma tutto Brunelli, alla contropiede, va Becoli, ne finta il tiro, la parata di Ceto, bravissimo, il portierino, della Crash Eboli, ricordo, 14 anni e mezzo, fino a questo momento, sta facendo un figurone, a Casamora, vai all'appoggio, Marcella, allora Brunelli, pallina che arriva a Franchi, Franchi, limite dell'area, tiro, ancora di Ceto, poi commette anche il fallo, il giocatore mare in mano, allora Casaburi, non era partito, però Corzaro, il club, ha subito la sfera, il Castiglione, due minuti e mezzo, alla chiusura, del primo tempo, ricordo, 3 a 1, vantaggio mare in mano, in questa terza giornata, del campionato, di serie a due, Franchi, Brunelli, senta il servizio, ma li ha fermato tutto, Casaburi, cercare Corzaro, poi Luigi Marcella, Davide Gallotta, ancora Casaburi, Marcella, sentiamo benissimo i richiami, di Berniero Gallotta, che vuole più circolazione di palla, per trovare poi Spiragli, Casaburi recupera, ancora a cercare Marcella, in pratica è lui, un giocatore, che manovra tutte le palline, colpito sulla stecca, da Becoli, si conquista un fallo, Casaburi, e Marcella, alla battuta, della punizione, ma ancora Luigi Marcella, che porta un cognome, importante, rispetto a, Giuseppe Pino Marcella, ma insomma, omonomia, poi dalla parte opposta, Becoli, gran conclusione, ma lì, di sceto, è piazzato sul primo palo, recupera la sfera, però, Franchi, poi va a servire, Luigi Brunelli, per la Franchi, Borraccelli, Brunelli, c'è una gran mischia in area, Brunelli va a un gran diagonale, ma la pallina, esce larga di un soffio, poi, finisce in tribuna, Siamo quasi per entrare, nell'ultimo minuto, di primo tempo, con Marcella, che riporta avanti Leboli, si affida a Davide Gallotta, cercare Casaburi, manovra, formazione campana, Marcella, in questa, ultimi spiccioli, di prima frazione, ancora Davide Gallotta, da destra, chiuso, da Becoli, che non lo molla, di un centimetro, ancora Luigi Marcella, prova anche il tiro, la parata di Sassetti, che allontana un po' la sfera, poi, mette in mezzo, Corzaro, dietro per Casaburi, la signora è sempre lì, a difendere, poi il lancio sbagliato, ancora la pallina, allora Gigi Brunelli, formazione maremana, proverà l'ultima conclusione, mancano 16 secondi, prova il tiro subito, la lunga distanza, la parata di Diceto, che si ripete su Borracelli, non si passa, Luigi Marcella, ormai 3 secondi, Casaburi, scade, dunque, il primo tempo, arriva la sirena, si va a riposo, con la formazione maremana, avanti, 3 a 1, io ricordo, il marcatore di questo primo tempo, un gran diagonale di Davide Gallotta, va aperto il match, per Leboli, poi la rimonta maremana, dopo sette minuti e mezzo, il rigore di Franchi, quasi all'undicesimo, il 2 a 1, porta la firma di Marco Tisato, e poi, sull'azione, di pulizioni di prima, con la pallina uscita, da parte di Salvadori, che la recupera, l'assist per Nerozzi, che fa 3 a 1, con questo è tutto, a risentirci per la ripresa. squadra è di nuovo in pista, alla Casamora, dopo l'intervallo, la battuta sarà, il crash Eboli, che è sotto, 3 a 1, contro il Maremma Promotion Castiglioni, ricordo, terza giornata del campionato, di serie a 2, ma è stato comunque, un buon primo tempo, è stato un buon primo tempo, con tante azioni, tanti tiri, verso la porta, occasioni, da ambo le parti, formazione maremana, di la verità, non ha saputo sfruttare, la mole di gioco, espressa, ma alla fine, insomma, 3 gol, l'ha trovato, Achilli, questa sera, solo in tenuta da allenatore, non ha, desinato a cambiare, probabilmente, quintetto, in ogni circostanza, ha dato spazio, decisamente, a tutta la panchina, il solo Paoli, sostanzialmente, non è entrato in pista, Paoli, il portale titolare, questa sera, ha lasciato spazio, a pari dei sassetti, che si sta davvero, ben disimpegnando, al suo esordio, ricordo, in serie a due, prima partita in assoluto, nella cadetteria, dell'Oti, sempre giocato, nella serie B, riparte allora, Borracelli, saffida a Goti, deve arrivare al tiro, formazione maremana, trova a Goti, la conclusione, la palla, decisamente alta, può ripartire allora, Leboli, con, Vito Gallotta, passaggio, per, Davide Gallotta, lui la torre del gol, che aveva, svuocato il match, nel forse del primo tempo, ora Vito, capitano, Vito Gallotta, nella formazione campana, Luigi Marcella, ora per, Vito Gallotta, ora Luigi Marcella, andato per Casaburi, si fa in conto Salvador, Casaburi, offre però a Marcella, alla fine recupera Goti, che non va però in contropiede, aspetta l'arrivo di qualche compagno, Franchi, chiuso, andato a cercare ancora Salvadori, passaggio per, Francesco Borracelli, Borracelli tentamentale in mezzo, ma, l'assist è un po' pigro, viene subito intercettato, Casaburi, la lunghissima distanza, palla, veramente larga, allora Borracelli, cercare Salvadori, la caccia di qualche altro gol, per chiudere decisamente i conti, si prova a Franchi, respinto, Goti, seguine centrali, poi, offre ancora Salvadori, gli erra ancora per Borracelli, ma, Lebolli non sale, ancora Francesco Borracelli, grande agonale, la passata, del giovanissimo portiere, Carlo Di Ceto, ricorda ancora, 14 anni e mezzo, subito nella mischia, è stato da parte di Berniero Gallotta, chissà, si farà entrare anche, Alessandra Gallotta, la ragazza giovanissima, intanto il tiro, di Luigi Marcella, Sassetti, a mano aperta, va la respinta, poi, Goti, soffia la pallina, se ne va in contropiede, bloccato, da Davide Gallotta, allora il contropiede, adesso è per Leboli, Vito Gallotta, chiuso però, è stato un problemino, in area di rigore, Riccardo Salvadori, prosegue dunque il match, cercare Borracelli, detto per Franchi, sono andati tre minuti e mezzo, nel corso della ripresa, Salvadori, ancora Goti, ancora cercare Franchi, Castiglione in manovra, ma non trova, via di sbocco, prova Franchi, gol, macchierrete, di Alessandro Franchi, che fa doppietta, 4 a 1, ha tolto le ragnatele dal set, Alessandro Franchi, 3 minuti e 55, sul cronometro, Franchi, mette dentro il 4 a 1, gran botta da fuori, per Franchi, il quarto gol stagionale, davvero un tiro, un missile, che è andato a morire all'incrocio, alla sinistra di Ceto, che lì poteva farci davvero poco, dunque sale, il conto dei gol, 4 a 1, mette qualche problema per Davide Gallotta, che esce dalla pista, questo posto entra, con il numero 21, Marcello Corsaro, mentre Salvadori in aria, viene toccato, anzi no, ha sparato direttamente lui fuori, davanti alla porta, non ha inquadrato lo specchio, non ha provato ad alzare la pallina, tanto Luigi Marcella, inseguito da Goti, davvero pressing alto, per il Castiglione, ancora Marcella, Vito Gallotta, ancora Luigi Marcella, il tiro, la palla respinta, sempre però Eboli, a impostare l'azione, Corsaro, finte su Borracelli, che però lo chiude, poi il fallo di Corsaro, che è andato a spingere, un giocatore mare in mano, dopo aver perso la pallina, e parte allora Francesco Borracelli, iniziato a cercare Salvadori, Castiglione avanti di tre gol, quando mancano però 20 minuti alla fine della partita, c'è ancora tantissimo da giocare, Franchi, Borracelli, Goti, ancora Borracelli, ancora per Franchi, scorso anno, nei due match, arrivano due vittorie, per il Marema Promotion, 6 a 2, qui al Casamora, con le reti di Brunelli, la tripletta di Franchi, e due di Salvadori, poi vittorie anche al ritorno, 7 a 3, in quel caso doppietta di Naldi, 3 gol di Achilli, che questa sera, come all'andata, scusate che questa sera non gioca, ovviamente fa solo l'allenatore, poi altri due gol di Riccardo Salvadori, insomma, due partite lisce, due vittorie senza discussioni, intanto finisce a terra Casaburi, sul contrasto su Borracelli, sesto fallo di squadra, della formazione marimmana, 6 anche quelli dell'Eboli, quindi, parità, su questo fronte, e parte l'Eboli con Luigi Marcella, offre a Casaburi, prova il tiro Casaburi, ma lì, pare di Sassetti, fa buona guardia, allora Borracelli, Goti, indietro per Franchi, Franchi salta in avversario, poi viene stoppato da Casaburi, ma c'era stato prima il fallo, su Franchi, colpito, dunque punizione, in favore del Castiglione, Franchi laggiù nell'angolo, e si lamenta per il colpo subito alla mano, ha visto tutto l'arbitro di questo match, ha ricorto Marco Giombetti, quadruviato in, al tavolo della giuria, dall'ausiliario Alessio Casini, di Follonica, Marco Giombetti di Monaca, di Modena, sarebbe di, non Antola, di La Verità, ha dato il tiro, di Vito Gallotta, la palla larga di un soffio, ma buona combinazione, quella impostata da ragazzi, di Berniero Gallotta, ancora Vito, cercare Luigi Marcella, poi sbaglia l'appoggio, la pallina, recuperata da Franchi, tenta di andarsene, palla per Salvadori, Franchi, mette in mezzo, gollo, la rete di Gigi Brunelli, come si è aperta un po', la difesa, dell'Ebole, arrivano i gol, 5 a 1, anche Gigi Brunelli, va in rete, 6 minuti e 31, Brunelli, su assist, di Franchi, fa 5 a 1, sale dunque, il conto dei gol, rimessa in gioco, la parte di Davide Gallotta, Casaburi, Marcella, allora Casaburi, che tenta di far partire proprio Marcella, ma recupera Franchi, si affida a Brunelli, che Brunelli è appena entrato, ha toccato la prima pallina, l'ha messa dentro, intanto Goti, la parata di Liceto, poi qui, Frana, sul giovane portiere, Michele Nerozzi, si scusa, in parte, allora Casaburi, cercare Davide Gallotta, sempre Gallotta, in possesso palla, poi mette in mezzo, ma allontana Sassetti, poi recupera in qualche modo, Goti, che subisce anche fallo, da Luigi Marcella, i due si scambiano, qualche complimento di troppo, poi la spinta di Casaburi, viene allontanato Goti, arriva però un cartellino blu, per i due giocatori, però Goti, vuole chiarirsi, in questo caso, la regola, è abbastanza semplice, 7-11, sul cronometro, si ristabilisce comunque la parità, perché nella doppia espulsione, sostanzialmente, si annulla a vicenda, riparte allora il match, con Franchi, in pista anche Marco Tisato, cercare Luigi Brunelli, Franchi, Gora Tisato, cercare Brunelli, sbaglia però l'appoggio, allora, Luigi Marcella, ma ferma tutto, Alessandro Franchi, che può tentare di andarsene, salta un po' ad avversari, Franchi, tiro, l'area è spinta, di un difensore, ma sempre Franchi, per Nerozzi, si lotta, Gorsaro alla meglio, poi Davide Gallotta, che tenta di dare velocità all'azione, inseguito da Luigi Brunelli, in area Brunelli, bravissimo, a soffiare la pallina, al giocatore Campano, poi se ne va Brunelli, mette in mezzo, ma lì c'è Luigi Marcella, assist, che non arriva, dalla parte opposta, Davide Gallotta, tenta di entrare in area, Sassetti, poi il tiro di Gallotta, la pallina è finita, sopra la trasversale, tanto passa qualche secondo, perché ha perso, perché la pallina era uscita, tanto recupera Brunelli, in area Nerozzi, Brunelli poi non riesce a servirlo, ma sullo slancio, va a recuperare la sfera, indietro per Franchi, ancora Tisato, Franchi, è finte su Marcella, poi Nerozzi, il tiro, la parata di Diceto, piazzato lì sul primo palo, poi sbaglia però il disimpegno, Brunelli, Brunelli viene intercettato, solo fallo semplice, non di squadra, otto quelli commessi da Leboli, sette quelli commessi da Castiglione, tra un po', potrebbero arrivare a dieci, e a dieci si batte, in tiri liberi, Franchi, 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 li fa strada a Nerozzi, va al tiro, la palla deviata, poi la sponda, ancora Franchi, che recupera, indietro a cercare Brunelli, Brunelli tenta di saltare, Corzaro, poi ancora Franchi, da lunga distanza, la palla deviata, pericolo, davanti a Diceto, che si salva, può ripartire allora Davide Gallotta, chiuso da Tisato, recupera la Franchi, subito Nerozzi, va a Nerozzi, la conclusione, la pallina su Brunelli, che non riesce a servire Franchi, e allora, Vito Gallotta, dalla parte opposta, mette in mezzo, ma lì, Sassetti, con un tocco di guantone, fa ripartire l'azione per i suoi, va a tiro Brunelli, centrale, poi finisce giù, Luigi Brunelli, colpito da Corzaro, ma anche a Diceto qualcosa, sono ancora qualche spintone, si lamentano però, i giocatori maremani, qualche fallo di troppo, in questo frangente, intanto fallo di squadra numero 9, per l'Eboli, al prossimo, scatterà la punizione di prima, in favore del Castiglione, Tisato, poi il tiro di Franchi, ma troppe gambe, lì in mezzo all'area, recupera ancora Tisato, cercare Brunelli, Franchi, Nerozzi, Franchi, in difesa ospite, si è chiusa bene, davanti all'area di rigore, ora Tisato, Franchi, Brunelli, manovra, per Alessandro Franchi, ancora lo scambio fra i due, ma l'area è intasata, bisogna ripartire allora da centro pista, Tisato, Franchi, cercare Brunelli, tenta di mettere in mezzo, chiuso, allora dalla parte opposta, Davide Gallotta, chiuso da Tisato, la linea è spinta, poi salva tutto, pare dei sassetti, poi Brunelli non riesce a far ripartire il contropiede, Davide Gallotta si libera bene, il tiro sull'esterno della rete, pericolo in area baremane, Franchi per Brunelli, ancora Franchi, ora per Marco Tisato, 13 minuti e mezzo alla fine della partita, 5 a 1, comunque il vantaggio rassicurante del Maremma Promotion, che tutto sommato dopo l'1 a 0, lo 0 a 1 iniziale, si è portato avanti, non ha avuto più dubbi nel comandare la partita, anche se l'Eboli sta lottando su ogni pallina, finisce a terra Nerozzi, recupera Luigi Marcella, Vito Gallotta per Corsaro, ancora Luigi Marcella, in passaggio in area per Davide Gallotta, ma lì, scusate, per Vito Gallotta, ma lì c'è pare dei sassetti, bravissimo, pare dei sassetti, si sta guadagnando la pagnotta questa sera, Gigi Brunelli al tiro, la palla larga, poi viene fischiato, alta, sostanzialmente quando la pallina supera, l'altezza della traversa, un metro e mezzo, è un po' gioco pericoloso, dunque si deve riprendere con una punizione, arriva anche un time out, in questa ripresa dunque, sono arrivati altri due gol, quello di Franchi, quasi al quarto minuto, e poi, con un bel tiro, da lunga distanza, ha indovinato al sette, e poi quello di Brunelli, su Astist, proprio davanti alla porta, non poteva davvero fallire, Gigi Brunelli, questa è inquadrata, la panchina del Castiglione, quando mancano 12 minuti e 42 secondi, classifica in questo momento, vede al comando, della serie a due, proprio Sandrigo e Castiglione, a quota 6 punti, a quota 4, Viareggio, Correggio, Roller Bassano, e Pordenone, a 3 lo Scandiano, a 1 punto, Montecchio e Modena, fermi al palo, a 0, dopo due partite a punto, Vercelli, Crash Eboli, e Prato, in questa serata, si giocano, tutte le partite, la SV Areggio, ospita il Correggio, il Prato, contro il Roller Bassano, lo Scandiano, contro il Pordenone, l'UVP Modena, ospita l'amatori Vercelli, il Montecchio precalcino, contro il Sandrigo, può riprendere il match, tanto in pista, è entrato anche, Jonathan Becoli, la linea però, è per Leboli, che può far ripartire l'azione, Vito, Gallotta, poi ferma tutto, però Riccardo Salvadori, ora Becoli, per Nerozzi, colpito Nerozzi, da indietro, riesce comunque a tirare, palla visamente alta, allora Corzaro, tenta di dare velocità, ma poi perde la pallina, Tisato lì, lo attendeva, gliel'ha presa, senza problemi, la parte opposta, Becoli, Salvadori, cercare ancora Becoli, Tisato, Salvadori, provo un'alza e schiaccia, ma Diceto, bravissimo, va la respinta, allora Corzaro, riesce a servire Luigi Marzella, va a cercare Davide Gallotta, poi indietro ancora per Marzella, trova anche il tiro, la respinta di Becoli, ma Marzella può recuperare, Vito Gallotta, ricordo Davide Gallotta, è fratello di Alessandra Gallotta, Vito in sostanza è il cugino, intanto è arrivato il decimo fallo dell'Eboli, e dunque ci sarà punizione di prima per il Castiglione, ci va Marco Tisato, 13 minuti e 35, tutto pronto, battisato, gran tiro, gollo, raso terra, imprendile, che fa 6 a 1, doppietta per Marco Tisato, e poi va a esultare, dove ci sono i suoi bambini, che lui fa anche l'allenatore del settore giovanile, dunque per lui gioia doppia, Marco Tisato, Marco Tafazzi, Tisato, doppietta questa sera, quello che più conta è il punteggio, 6 a 1 per la formazione maremmana, manca ancora tanto, 11 minuti e poco più, vediamo la reazione dell'Eboli, Marcella, cercare Vito Gallotta, Poi Davide, palla larga di un soffio, si lotta la sponda, Corzaro recupera, Luigi Marcella, sfruttato benissimo dunque la punizione di prima, con Marco Tisato, il Maremma Promotion Castiglione, Luigi Marcella, poi Vito Gallotta, prova la conclusione, un bel diagonale ma alto, e allora Vecoli può recuperare, fidandosi a Marco Tisato, ancora Vecoli, prova il tiro Vecoli, la palla però è centrale, lì c'è Carlo Di Ceto, poi Marcella lo scambio, Vito Gallotta, ma recupera Nerozzi, si è allungato un po', Neboli, Nerozzi al tiro ma, la palla fuori, però ancora formazione campana, conclusione Davide Sassetti, bravissimo Davide Sassetti, super concentrato questa sera, una gran parata, per il portiere senese, per lui insomma, momenti importanti, una storia bella, quella di Pari di Sassetti, che sempre giocato in Serebbi, la chiamata del Castiglione, c'è stato in sostanza uno scambio, Alessio Fedi per programmi di studio, doveva andare a vivere per un anno a Siena, allora andato a giocare nella squadra di Serebbi, a quel punto però Castiglione aveva bisogno del secondo portiere, si è deciso dunque per lo scambio, e Pari di Sassetti quest'anno potrà divertirsi in Serea 2, questa sera ha trovato dunque la porta da titolare, concessa da Michele Achilli, che si sta davvero togliendo delle belle soddisfazioni, portiere, 28 anni, quindi insomma, la paura insomma non è che c'era molta, l'esperienza anche se in categoria minore, ma c'era, quindi per Pari di Sassetti, tanto Nerozzi recupera, tenta di servire Salvadori, ma non ci riesce, allora Eboli con Marcella, poi la palla in area allontanata, un pericolo, Salvadori recupera proprio su Marcella, rimasta in pista tutta la partita, ancora Salvadori, provala al diagonale, gol, 7 a 1, 7 a 1 per il Castiglione, Salvadori dunque trova, anche lui il suo primo centro stagionale, 16 e 34, Salvadori, riesce a bucare, Carlo Di Ceto, che poi esce dal campo, quando mancano 8 minuti e 26 secondi, c'è anche un time out, al suo posto è entrato Valerio Lamberti, per questi ultimi 8 minuti, vuole dare un po' di respiro, Berniero Gallotta al suo giovane portiere, insomma Riccardo Salvadori, anche lui, è andato in gol, c'è appunto di Michele Achilli, che questa sera ha deciso di non scendere in pista, ha lasciato spazio agli altri componenti della Rosa, manca ancora però tanto, 8 e 26, il punteggio la dice tutta, 7 a 1, in vantaggio Maremmano, in questa ripresa, sono arrivati dunque altri gol, quattro reti per la precisione, Leboli riparte, con Marcello Corzaro, per Luigi Marcella, poi Davide Gallotta, in seguito da Nerozzi, Ancora Marcella, possesso palla, davanti a sé Salvadori, riesce a scaricare su Davide Gallotta, recupera poi Nerozzi, fa partire Salvadori, 3 contro 2, Salvadori mette in mezzo, e poi il gol di Becoli, il tocco sopraffino di Jonathan Becoli, 8 a 1, si allunga, il punteggio, 17 e 0-3, Becoli anche lui, va in gol, un tocco davvero mortifero, un po' mollato in questo momento, Leboli, ci prova Casaburi, cercare Davide Gallotta, poi la ributta in avanti, la conclusione, la palla filtra, ma larga, allora Casaburi, mette in mezzo, ma lì c'è Salvadori, adesso anche un po' la tenuta atletica, con Nerozzi, la conclusione, para tutto, Lamberti, poi Gigi Brunelli, Jonathan Becoli, ancora Salvadori, Brunelli, è stato in pista anche lui, per questo finale, Nerozzi, Brunelli, ancora Salvadori, Salvadori mette in mezzo, Lamberti, Valerio Lamberti va, alla respinta, anche Lamberti è giovanissima, di la verità, con il caschetto, si salva ancora, 20 anni, per il portiere, il secondo portiere di questa sera, dell'Eboli, poi il tiro è gol, di Becoli, adesso, sta davvero, lasciando Praterì al Castiglione, la formazione campana, 9 a 1, 17 e 24, anzi, Becoli, fa doppietta, era 18 e 24, anche io mi sono un po' perso, ma insomma, 9 a 1, davvero, goleada del Castiglione, sapeva un po' la vigilia, aveva confidato anche nel pre-partita, proprio l'allenatore Berniero Gallotta, sono un po' di problemi per gli allenamenti, anche per i giocatori, che sostanzialmente, tanti veterani dello scorso anno, sono tornati a Salerno, stanno, formazione autartica, con tanti giovani, si lotta decisamente per la salvezza, chiaro, come tutti gli anni, a dire la verità, però è chiaro che hanno perso un po' di potenziale, gli autori come Esposito, anche se veterani, ma insomma, davano per qualcosa in più, stesso portiere, come Stallone, ma insomma, tanto Becoli, su Casabura, arriva il fallo, ottavo fallo di squadra, anzi, il fallo è stato commesso, sul numero 21, Marcello Corzaro, stiamo per entrare, negli ultimi 5 minuti, di match, un match, che sostanzialmente ha detto tutto, Davide Gallotta, porta un po' a spasso la pallina, poi Casaburi, serve ancora Corzaro, tenta a liberarsi di Becoli, che però rimane lì, alla fine soffia la pallina, Casaburi va, con mettere fallo, punizione in favore del Castiglione, Salvadori, scambia con Sassetti, Gigi Brunelli, ancora Salvadori, ancora Brunelli, Nerozzi, Becoli, Brunelli va al tiro, la palla deviata, c'erano troppe gambe, però davanti a lui, l'Upra però sempre Gigi Brunelli, scambio su Salvadori, adesso Clebole lì, che si difende davanti all'area, tiro di Salvadori, centrale, Lamberti va alla deviazione, fuori dalla parte opposta Marcella, ferma tutto però Salvadori, poi in aria Davide Gallotta, il tiro Sassetti, bravissimo, bravissimo, Paride Sassetti, che ha bloccato tutto, non si è lasciato sorprendere, intanto doppio cambio, fuori Salvadori, Salvadori e Becoli, dentro Borracelli e Franchi, ha davvero fatto ruotare come una giostra, i propri giocatori, Michele Achilli, che probabilmente sarà soddisfatto questa sera, probabilmente della tenuta atletica, senza ombra di dubbio, ma poi anche di quella nervosa, contro il Prato, la scorsa settimana è arrivata una vittoria, che non aveva soddisfatto l'allenatore Maremmano, 5-2 con la formazione daniera, sempre qui a Casamora, la partita però giocata a basso ritmo, questa sera perlomeno Lebole ha lottato, anche colpito duro, non ha risposto colpo su colpo, intanto Casaburre a tiro, la respinta della difesa, Nerozzi, limite dell'area, passaggio a cercare Borracelli, ma scambio con Brunelli, sempre Borracelli, ancora Franchi, Borracelli, va al tiro Borracelli, la palla indirizzata all'angolino, ma non era un gran, che poi è rimasta a terra Luigi Marcella, probabilmente toccato durante la conclusione, costretto a uscire Luigi Marcella, entra in pista Vito Gallotta, lo scambio con il cugino Davide, poi Castiglione che riparte, Nerozzi, lascia Franchi, andate a cercare Gigi Brunelli, Borracelli, prova Brunelli, il tiro, recupera Lepoli, ma sbaglia anche Corzaro, adesso le energie stanno un po' entrando in riserva, sono i richiami di Berniero Gallotta, ma è chiaro che insomma la squadra sotto 9 a 1, quella dell'Evoli, intanto il tiro di Nerozzi, vicino al palo, recupera Davide Gallotta, chiuso da Brunelli, rimane però un po' stesso palla, il giocatore Bolitano, poi Brunelli, gli soffia la pallina, si appoggia Borracelli, Borracelli, pensa anche al tiro, gol, segna anche Francesco Borracelli, gran gol, 10 a 1, 22 e 45, anche Borracelli, entra nella beneficiata, Maremmana, cifra tonda, 10 a 1, davvero goleada, tra formazione Maremmana, mancano sempre due minuti, Vito Gallotta, indietro a cercare Davide, riesce a servire Casaburi, da sinistra, Luigi Brunelli, subito in contropiede, per Borracelli, gli fa strada a Franchi, Borracelli mette in mezzo, Lamberti, bravissimo, sul primo palo, poi Franchi va giù, arriva il fallo di squadra, dodicesimo, fallo di squadra, da parte dell'Eboli, mai 95 secondi, alla fine della partita, una partita, sostanzialmente dominata, dalla formazione Maremmana, Luigi Brunelli, dietro la porta, gol, Luigi Brunelli ha fatto una finta, che ha sbilanciato Lamberti, 11 a 1, 23 e 38, segna ancora Brunelli, il gol dell'11 a 1, davvero un bel gol, soprattutto perché ha fatto una finta, sul portiere, che ci è cascato, intanto, ultimi spiccioli, di partita, concessi anche altri giovanissimi, Alessandro Fornataro, e soprattutto da Alessandra Gallotta, in pista, con la sua coda, che va subito a commettere falla, della verità, per nulla intimorita, Alessandra Gallotta, andrà a colpire il bastone, di Francesco Borracelli, Tisato ha dato un'occhiata al cronometro, siamo entrati nell'ultimo minuto, di partita, sarà un problema anche di costruire tutti i gol, Brunelli, poi può ripartire Leboli, ma la palla è troppo lunga, per Davide Gallotta, allora Tisato, Francesco Borracelli, cercare Brunelli, Franchi, Franchi per Borracelli, questa volta non inquadra lo specchio, sempre però Brunelli in possesso, Franchi, chiuso, ma Brunelli recupera ormai 20 secondi alla fine, Marco Tisato, Borracelli, c'è solo a tenere pallina per arrivare alla fine, 10 secondi, Tisato, Brunelli, Castiglione ha deciso di chiuderla qui, la mette in mezzo, allontana Lamberti, arriva dunque la vittoria, la terza vittoria consecutiva, per il Maremma Promoscio, una vittoria sul velluto, possiamo dire 11 a 1, e pensare che in vantaggio c'era andato Leboli, in pratica dopo 5 minuti, il grande avonale di Davide Gallotti, da quel momento è stato monologo, mare in mano, ci sono gli applausi convinti, verso Pari dei Sassetti, perché stasera davvero, si è meritato, gli applausi del Casamora, neanche dei propri compagni, mi toccherà portare Pasticcini, e Spumante, al prossimo allenamento, dopo aver giocato una partita del genere, Pari dei Sassetti, dunque il Maremma Promoscio, in fila, la terza vittoria consecutiva, sale a quota 9 punti, rimane dunque, al comando della classifica, in attesa di sapere cosa ha fatto il Sandrigo, ma comunque, insomma, un inizio ben augurante, per la formazione maremmana, che anche quest'anno, vuole togliersi, tante soddisfazioni in campionato, pur consapevole che, insomma, gli obiettivi sono quelli di ben figurare, sono tante squadre, in questa stagione, che stanno pensando in grande, oltre al Sandrigo stesso, c'è il correggio, il roller scandiano, ma poi anche, il roller bassano, che si è rinforzato, e lo stesso AS Viareggio, saranno tutte partite importanti, in Montecchio precalcino, ma insomma, tante squadre, che ambiscono, al salto di categoria, con questo allora, è davvero tutto, io ribadisco il punteggio finale, dal Palasport di Casamora, per la terza giornata del campionato, di Serie A2, il Marema Promotion, Castiglione ha battuto, 11 a 1, l'Ebolitana Crash Eboli, e si conferma, leader del campionato, di Serie A2, con questo è davvero tutto, grazie, anche per i vanne comandi, alla telecamera, da Enrico Giovannelli, ai prossimi appuntamenti, con le partite, di Occhi su pista.